Ciao a tutti, siamo a Ferrara dove il 3, 4 e 5 ottobre si rivolge il Festival dell'Internazionale. Giornalisti da tutto il mondo tratteranno i temi più importanti dell'attualità. Vodafone è sponsor dell'iniziativa e noi siamo con Simona Vandelli, responsabile eventi e sponsorizzazioni. Che cosa ha pensato Vodafone per questa occasione? Ciao, buon pomeriggio. Noi abbiamo uno stand ma quello che è di fronte c'è il nostro negozio, il nostro punto vendita. Quello che in realtà vogliamo fare è far conoscere Vodafone con tutti i suoi servizi al cliente che spesso non sono il modo più diretto con il quale ci conoscono in piazza. Facciamo delle attività di vendita ma in questo caso siccome il negozio è di fronte noi volevamo focalizzare l'attenzione sui servizi di My Vodafone. I clienti che stanno passando di Vodafone e anche non quelli di Vodafone sono molto contenti perché ogni volta che si iscrivono ai nostri servizi scoprono che possono dialogare con Vodafone anche con la chat. E allora dice prima c'erano le persone che ci parlavano, adesso invece c'è anche la chat. E quindi devo dire che sono sorpresi. Molti non conoscono ancora il servizio quindi è un bel servizio utile alle persone, ai clienti per fare come dire in questo caso service awareness delle cose che noi abbiamo in casa. Nel negozio di fronte invece ci sono tutte le nuove offerte, oggi comincia il canvas e già ci stanno chiedendo qualche informazione di questo nuovo scegli tu con la gruccia e dicono ma che cos'è questa gruccia, gli animali non ci sono più e quindi noi stiamo cercando di rispondere anche a queste domande e capire se possiamo offrire gli nuovi servizi. C'è qualche vantaggio o promozione per chi passa dal nostro stand? Visto che siamo al Festival Internazionale di Ferrara e si tratta di giornalismo, si tratta di informazione, i clienti di Vodafone che passano e si registrano al My Vodafone, gli viene consegnato questo coupon e con questo coupon possono andare nel nostro negozio che sta qui di fronte e ritirare un altro coupon dove c'è un codice di attivazione e per un mese avranno un servizio di lettura di un quotidiano a loro scelta. Niente di più azzeccato direi per questa occasione? Questa volta si trattava di informazione e così abbiamo accolto i nostri clienti. vi do appuntamento al prossimo evento per farvi scoprire cosa faremo. Grazie mille. Prego, ciao.